Benvenuti al meteo. Primo gennaio 2022, l'anno nuovo si apre all'insegna dell'anticiclone africano sempre più presente sul nostro territorio. Vediamo allora il dettaglio. Sul Veneto al mattino nubi basse, nebbie in pianura, localmente persistenti, ma in prevalenza si dissolveranno a seguire. Cielo in montagna generalmente sereno, dopo il tramonto però nuova formazione di foschie in pianura, attenzione perché saranno anche fitte. Temperature stazionarie, minime tra lo zero e i due gradi, massime sui 5-9 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia, anche qui sarà sereno sui rilievi, cielo coperto invece sulle aree pianeggianti al mattino, ma col passare delle ore più sole. Temperature minime tra lo zero e i cinque gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove splende il sole dappertutto, come vediamo. Sarà limpido e sgombro da nubi ovunque. Temperature minime intorno a 5-6 gradi, massime quasi primaverili, comprese tra i 13 e i 16 gradi. Dal Meteo di Antena 3 per ora è tutto, buon inizio anno a tutti voi. Grazie a tutti. Grazie a tutti.